Poi a loro, farei un applauso collettivo e ve lo faccio io a voi. Io sono Francesco Bolognesi e vi ringrazio per il profondo del cuore. Grazie. Perché così conviene, perché così ti hanno insegnato ad affrontare, ad evitare, a rinnegare, a non vedere, a non provare, a immaginare, a complicare, a camminare, a non amare, a non sapere come fare, a non cadere. E vai, tu non cambiare mai, perché così fai bene, e quando gira il sangue nelle vene, tu non lasciare mai, entrare chissà bene, il giro che fa il sangue nelle vene, e poi se ne andrà, tu non cambiare mai, Perché così fai bene, e quando gira il sangue nelle vene, tu non lasciare mai. Se io fossi come te, non starei per tanto male, saprei strappare ogni minima emozione, se io fossi come te, saprei sempre cosa dire, scavare intorno a me, chilometri di faccia, affrontare, evitare, sopportare, rinnegare, a non vedere, E non provare, a immaginare, a complicare, a camminare, a non amare, a non sapere come fare, a non cadere. E vai, tu non cambiare mai, perché così fai bene, e quando gira il sangue nelle vene, tu non lasciare mai, entrare chissà bene, il giro che fa il sangue nelle vene, E poi se ne andrà, tu non cambiare mai, perché così fai bene, e quando gira il sangue nelle vene, tu non lasciare mai. Vedi, non è così facile, vedi, non è così semplice, non cambiare mai, forse non va bene, così non gira il sangue nelle vene, si semperà. Vedi, non cambiare mai, perché così fai bene, e quando gira il sangue nelle vene, tu non lasciare mai, Non cambiare mai, perché così fai bene, anche entrare chissà bene, ti giro tutto il sangue nelle vene, e poi se ne andrà, tu non lasciare mai, tu non lasciare mai. Tu non lascia mai Tu non lascia mai